Quando noi adesso facciamo questo gesto di bere l'acqua, di segnarci con l'acqua davanti a questo pozzo, ricordiamo tutto il cammino che abbiamo percorso fino adesso, dal peccato alla grazia, il peccato che è un po' il segno distintivo a volte della nostra vita, nello scegliere il male, e la grazia di Dio che ci viene data dall'acqua copiosa che Gesù ci offre per far rinascere nel nostro cuore la vita che a volte è un po' un deserto. Grazie Grazie Grazie